Ben ritrovati ragazzi da vostro OpenTitus facciamo quest'altro video per vedere come Windows Phone, in questo caso Windows Mobile 10 non è del tutto morto, è vero purtroppo di notizie se ne sentono di male in peggio questo è vero però per chi è un possessore appunto di uno smartphone Windows che possa essere un Lumia, un HP o qualsiasi altro dispositivo possa avere questo sistema operativo che comunque sia io reputo comunque sempre valido anche se purtroppo manca il supporto delle applicazioni quindi andiamo sul nostro streaming video e vediamo come si possono trovare ulteriori applicazioni rispetto a quelle che sono presenti nello store perché dovete sapere che la pecca principale di Windows 10 è proprio il suo store che si presenta non scarno, peggio quindi sono pochissime le applicazioni e per questo motivo molti sono scoraggiati da poterlo usare ma qualcuno, qualche sviluppatore ha avuto una geniale idea ha creato uno store alternativo che si chiama 9zenstore quindi andate sul vostro store scrivete 9zenstore cercatelo attendete un attimo che carica perché lo store di Windows è anche lento nonostante io abbia un dispositivo che è un Lumia 950 che ha 3 giga di RAM e si accorre 1,8 giga dovrebbe essere una scheggia ma purtroppo sotto questo aspetto Microsoft non si è messa ad impegno quindi questi sono i risultati è vero che vengono aggiornati vengono fatti dei bug flicks e quant'altro ma non sono assolutamente sufficienti eccolo qui passate che andate su app e lo vedrete qui 9zenstore sviluppato appunto a qualche sviluppatore che si chiama Inspizen Inc come vedete le recensioni sono molto alte e poi vediamo perché allora adesso lo avviamo ecco vedete che è uno store a tutti gli effetti innanzitutto risulta la prima cosa che viene palese è la velocità molto ma molto più veloce quindi carica facilmente quello che volete cercare ma un altro aspetto è che se noi torniamo un attimo allo store e cerchiamo ad esempio un gioco che non esiste più sullo store come ad esempio Pixel Gun io ho allora Pixel Gun cerchiamo e ora vedrete che sullo store ufficiale di Microsoft non c'è assolutamente nulla vedete Pixel Gun non esiste però cosa accade che se io vado ad aprire invece 9zenstore e cerchiamo qui Pixel Gun vedete che lo trova miracolo lo trova però la cosa ancora più assurda e strana è che lui vi dice apri nello store perché ovviamente Pixel 9zenstore non fa altro che essere un motore di ricerca delle applicazioni che sono presenti già sullo store quindi fate apri sullo store prima non c'era adesso c'è vedete quanto è strana questa cosa non so come faccia questa app ad avere questa possibilità comunque sta di fatto che vi permetterà di scaricare tante altre applicazioni che non sono più presenti sul vostro store quindi sicuramente potrete trovare una maggior quantità di applicazioni che adesso le hanno rimosse io faccio riproduci perché ovviamente il tutto è stato già scaricato in anticipo e vedete appunto che il gioco va tranquillamente va fila liscio bene io spero di esservi stato utile con questo con questo tutorial che vi mostra come è possibile poter scaricare ulteriori applicazioni presenti in uno store microsoft che si presenta a scarno è vero però ci sono ancora delle valide soluzioni altre applicazioni che sono più presenti sullo store vedete appunto che il gioco va abbastanza bene bene possiamo chiudere il tutto torniamo a windows stacchiamo il collegamento bene ragazzi spero di esservi stato utile dal vostro open titus con quest'altro consiglio con quest'altra recensione ci vediamo alla prossima dal vostro open titus ciao ciao